Il 25 gennaio alla biblioteca della regione via Confienza 14 è stata inaugurata la mostra Le ali della storia, l'aeronautica militare italiana dalle origini alla seconda guerra mondiale, visitabile fino al 2 marzo, lunedì venerdì ore 9.13 e 14.16. Con il presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo sono intervenuti Marco Papa e Mauro Giacomino Piovano, la cui collezione di strumenti aeronautici, divise e oggetti vari di origine industriale, militare e civile ha dato vita alla mostra. A corollario dell'esposizione sono programmate 5 conferenze sull'aeronautica, a partire da quella tenuta da Marco Papa il giorno dell'inaugurazione.